qua allora dopo un bel po di tempo ci rifacciamo un giretto con il gruppo peprati qua ci abbiamo di spalle il primo cesso guardatelo secondo cesso sta proprio in direzione sua sta più avanti tutti i cessi sono questi due ragazzi non li conosco quindi ancora non li possiamo dire niente diciamo una piccola panoramica vediamo qua one two saluto alla camera please saluta la camera diamo da saluto alla camera please please saluto alla camera please please saluto alla camera oggi se ritrovamo se ci facciamo un bel giro oggi abbiamo detto 50 e 50 e spicci a 50 e spicci livello va bene dai giornata apprezzabile quasi splendida quasi splendida addirittura da che giornatina saggio e arduo fattiva arduo e fattiva andano vici avanti perché di la pri pista dai e via grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti che un po diciamo che a me i pertuggi pertuggi belli non ti piace ho sempre avuto la predisposizione umidini sei tutti noi a sei tutti noi tranquillo stavamo tutti sulla rampa al salita beh non hai capito eh hai capito la lettura di me si fa quello viaggio il ragazzo viaggia oh eccolo il trenino pratarolo guarda lì va come si divertono sul folia guarda guarda sa chiacchierano che gli frega vanno da tappo si fermano chiacchierano guarda qua che bel pratino è da fa dentro casa allora abbiamo detto stiamo alle caldare di martian di marziana fragranza numero 5 ma dai o io ci sono mai stato qua guarda non devi toccar l'acqua ti sciolgono le gomme senti guarda che attrezzi qua 1 2 3 4 guarda che attrezzi qua come come forza america un po ass america un po e che bellezza o guarda guarda ma tu guarda un po e me fatemela una foto ma fa meno foto che ce l'ha portata di mano del cellulare ma fa meno foto la cella è lì finisce potevi mettere il gettore in fondo il gettore ritorni anche piccola discesa ecco lo riprendiamo eh voglio vedere chi è che si allunga agile come una libellula vai adesso ah vedi a 2 a 2 ci passano loro dite che pesa questa perché questa è un peso ecco tutto io che faccio l'ultima e why why vedi come si fa prima si prima la le più non ha non ha alzato una bici una che ho manca la sua manca la sua alzato qua il gruppo felice guarda lì guarda lì guarda lì guarda lì guarda lì alle faniche che in testa guida la carovana ciao 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 ci ritrovammo in una selva oscura che la strada era all'antricata tocca a Nat eccolo Nat tocca a Le vado io o vai te? vai te non ci passi? mi mette una paura mi hai guardato? mi mette una paura